Momenti di preoccupazione, ansia e angoscia alle porte di Roma, dove un vasto incendio purtroppo è divampato nel tratto urbano dell'A24, la famosa autostrada, nei social network si parlerebbe di una colonna di fumo, fiamme e esplosioni tra via De Fiorentini e via Togliatti. Non si hanno ancora notizie relative però a questi danni che sarebbero ingenti da come si legge nel web di questo incendio che per l'appunto ci sarebbe stato in data odierna e ci sarebbero anche danni ovviamente o meglio problemi alla circolazione. Nel primo video presenti nei social si vede distintamente questo incendio, si vede questa nube di fumo di colore grigio scuro che scoppia e che si propaga per l'atmosfera terrestre o meglio l'atmosfera romana. Grazie a tutti per l'ascolto, il video termina qua, una situazione triste e drammatica dunque quella che si è andata a verificare in data odierna. Iscrivetevi se volete commentare e un caro saluto a voi tutti. Grazie a tutti.